E' stata una nottata decisamente movimentata a Biceglie, dove intorno alle 4 uno sportello automatico è stato fatto saltare in aria da un gruppo di malviventi, poi riusciti a fuggire. Ad essere preso di mira il bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano in via De Gasperi, angolo via Ariosto, nel centro cittadino. I banditi hanno agito secondo la classica tecnica della marmotta, un ordigno collocato nella fessura della cassa automatica dalla quale vengono erogate le banconote. Fortissimo il boato a seguito della deflagrazione, udito da molti residenti della zona, che si sono svegliati di soprassalto. Dopo l'esplosione i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto scura di grossa cilindrata, senza lasciare traccia. Ancora da accertare l'esatto ammontare dell'eventuale bottino, che verrà quantificato dal personale della filiale, mentre si sono registrati danni alla sede della banca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, mentre le indagini sull'episodio sono affidate ai carabinieri. I militari dell'arma hanno eseguito i primi rilievi sul luogo dell'esplosione ed acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dell'Istituto di Credito e delle attività commerciali della zona.